Buonasera, buonasera, buonasera Manfre, buonasera a chat, buonasera a tutti, ciao ragazzi. Non ci credi a cosa abbiamo, abbiamo una cosa che abbiamo aspettato per mesi, va bene parliamo domani ho capito, però sei andato fin, no ma diciamolo 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 vai dillo, valla a prendere, anche perché in merito della nostra chat ragazzi come sapete con le donazioni fatte ormai 4 mesi fa diciamo abbiamo, avete perché poi non l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto un regalo all'ospedale di Napoli, al reparto dei bambini e in più il manager di Pisacane ci ha portato la maglietta di Insigne per voi, falla vedere Manfre. L'ultima maglietta di Lorenzo Insigne firmata e usata dal campione di Napoli, grazie Pisacane sarà contento Levario che ci ha scassato a guarda, come si direbbe a Napoli. Il passaggio di Levario appena mi sveglio. Bravo, bravo e grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto ragazzi perché è merito soprattutto vostro. Domani la spedisco sia a Levario che al balcone del Pancio, quella di D'Ambrosio. Allora chat solo abbonati ragazzi, non per altro ma perché mi raccomando ai nostri sub, oggi ragazzi non parliamo di calcio, direi purtroppo non ho fatto neanche la bet perché è una live dovuta, secondo me ogni tanto noi che siamo su internet dobbiamo mettere anche il piede sulle uova rischiando di caderci ma per migliorare insieme un pochino come società. Allora stasera parliamo di Revenge Porn visto che ha toccato anche il mondo sportivo ragazzi e quindi direi di fare entrare innanzitutto le nostre ragazze di stasera. Diana De Meo, un bel applauso perché glielo faccio io con la chat. Ciao Diana, benvenuta. Ciao. Priscilla Salerno e Manuelina e anche Esmeralda Morichelli. Ciao ragazze. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Priscilla non si vede. No, abbiamo fatto la prova prima e c'era un problema medesimo, Diana se lo ricorderà perché era con me. E ovviamente per non fare troppe brutte figure e anche perché non ci vogliamo solo fermare a diciamo il problema ma cercare poi insieme di trovare anche come magari poter tentare una soluzione. Ok, mettiamola così, soprattutto facendo meno figure brutte possibili. Ho chiesto al professor Davide Bennato di accompagnarci in questa avventura. Buonasera professore. Grande, grande Bennato. Grande Bennato. Mia madre ascolta tutte le sue canzoni. Grazie a tutti. È un problema originale. Però le chiedo scusa veramente. Grazie intanto ad Alessandro. Allora, io direi di partire dal fatto. Allora, che cosa succede? Per mettere un attimo i puntini sulle i. Diana, se lo vuoi spiegare un attimo te, so che l'hai raccontato, però è giusto un attimo così partiamo da un punto, no? Prego. Sì, sono entrati degli hacker nel mio cellulare, probabilmente hacker che sono persone a me note, sono stati condivisi dei miei video senza il mio consenso, video privati, di cui uno, manco conoscevo l'esistenza, non ne sapevo manco, era mia insaputa. E' stato fatto senza consenso e adesso questi girano su Telegram e Whatsapp come fossero video normali e ho denunciato tutto, ovviamente. Ok, Diana nasce anche dalla parte sportiva perché Diana è un arbitro che adesso poco c'entra col fatto. Beh, però, sì, c'entra. Non c'entra col fatto ma c'entra con noi, visto che lavora nel calcio. Esatto, esatto. E allora io faccio, mi raccomando, una raccomandazione alla chat, visto che l'argomento non è facile. Ho visto oggi pomeriggio, perché io tante volte, ragazzi, voi dovete sapere che mi lamento della chat perché vorrei, perché penso che la chat di un canale sia un po', diciamo, debba riflettere il canale stesso, no? E quindi cerco sempre di migliorarla. Oggi, quando Priscilla ha postato che sarebbe venuta qua, ho letto dei commenti sotto e mi sono arrivati, pur adesso si è staccata Priscilla, e ho visto anche a me dei commenti molto, molto, molto particolari. Ora, io, visto che so che... Ecco, Priscilla, ci sei? Con la connessione, mi sentite? Buonasera a tutti. Ci sentiamo, ci sentiamo, ci sentiamo bene. Ciao, ciao. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Zni, adesso dicendo la verità, più uno Zni che un sì. Ti sentiamo non da Dio. Allora, però... Un po' lontano. Esatto, però farei un attimo un backflip, come dico sempre, visto che abbiamo Esmeralda, che purtroppo... Penso che sia stato, tra l'altro, e te, Esmeralda, sei stata la prima a subire revenge porn in Italia, forse. Hai questo triste primato. Io e te ci hanno sentiti per il libro più di una volta. Allora, che io sappia, sì, nel senso potrebbe essere successo, ma di certo non è uscito, cioè non è uscita la questione. Quindi, per quanto io ne sappia, sì, in realtà sì. A me è capitato nel lontano ormai 2013 questo fatto. E ovviamente nel 2013 era ancora... Mentre adesso ne parliamo e sappiamo cos'è il revenge porn, nel 2013, stiamo parlando di tanti anni fa, era stata considerata una cosa veramente, veramente pesante. Io ho avuto moltissime ripercussioni per il fatto, soprattutto essendo 16enne. Vorrei specificare che ovviamente erano una minorenne. No, io, Esmeralda, poi, se lo vuoi raccontare... Penso che tu l'abbia già raccontato, tra l'altro. Sì, no, 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 nessun problema assolutamente a raccontare cos'è successo. No, perché stiamo parlando, anche per poi fare un discorso verso la fine, per capire da dove arriviamo, ma non stiamo parlando di gruppi privati Telegram, ma stiamo parlando Esmeralda di Facebook nel 2013. Cioè quella piattaforma che tutti amiamo. Cioè immaginatevi trovarvi un vostro video nato a scopo intimo su un social network della portata di Facebook e probabilmente non esisteva ancora la parola revenge porn nel 2013. Poi tra l'altro lei è piccolissima perché 16 anni... E infatti è stata proprio l'età che mi ha fatto subire le cose più cattive, nel senso proprio il fatto che ero così piccola faceva sì che le persone dicessero che proprio era esagerato, non avrei mai dovuto fare una cosa del genere. La colpa era esclusivamente la mia, perché se io non avessi fatto, se non avessi mandato semplicemente video o contenuti, allora non sarebbe successo niente. Quindi, diciamo che ho vissuto anni con questa consapevolezza perché mi è stato ripetuto veramente da chiunque l'abbia conosciuto per molti anni, mi è sempre stato detto che appunto se io non avessi fatto nulla non sarei entrata in questo casino. E quindi è stata tutta una conseguenza della mia scelta. Allora, vi leggo qualche domanda raga, se uno fa una domanda anche fuori luogo, a meno che non sia proprio una meme del cazzo da Instagram che a quel punto lì lo blocchiamo, ma anche delle domande. Secondo me, che possono sembrare fuori luogo, tipo Giulio che dice, e la rivolge a Diana, ma ve la giro anche a voi. Andre, buonasera, non mi bannate, ma mi dicono tanti che l'ha fatto per hype Diana. Io penso che questo, eh no, però sia giusto Diana da parte tua, cioè io non so neanche come fai a concepirla sta domanda. Io poi ho trovato una domanda intelligente e poi la leggo. Ma io rispondo che per farmi pubblicità avevo centomila modi, di certo non perdere tra virgolette la dignità davanti a tutta Italia. Cioè, molte persone mi hanno detto, ma non riesco proprio a concepirla sta roba. Cioè, perché dovrei farmi pubblicità in questo modo? Cioè, si rendono conto di quello che sto passando, di quello che hanno passato le ragazze che hanno subito una roba del genere. Io non credo, altrimenti non lo penserei. Cioè, se sapessero, realmente non ci arriverebbero neanche a pensarlo. Forse non si rendono conto, forse vedono soltanto la telecamera, vedono la storia, vedono... Ah sì, quella sta andando a programmi, ma non si rendono conto di tutto quello che c'è dietro. Infatti. È che se lo fai è doppiamente difficile, perché un conto magari è non dire niente, un conto è metterci la faccia, ragazzi, perché veramente ci vuole tantissimo coraggio, cioè a stare qui a raccontare una cosa del genere ci vuole un coraggio che veramente non è da tutti. Quindi tanti complimenti innanzitutto a voi due, però veramente queste domande le trovo allucinanti, soprattutto nel 2022. Ma io ve l'ho girata perché a me ho condiviso uno screen su Instagram che mi hanno detto la stessa e identica cosa a noi del canale. Tra l'altro in un momento in cui c'è il calcio mercato e veramente potremmo fare i buchi per terra. Mentre siamo qua a parlare di una cosa, perché secondo me è proprio... Però, prof, chiedo anche a Priscilla e a Esmeralda, secondo me è proprio su questo che dobbiamo iniziare a lavorare. Perché non so se anche a te, Esmeralda, ti è capitato che quando hai subito questa cosa addirittura avevi paura di dirla proprio perché pensavi che uno ti dicesse, eh ma vuoi far parlare di te. Allora, più che altro è successo che innanzitutto non ne volevo assolutamente parlare perché parlarne significava confermare quello che era successo e quindi fondamentalmente ricevere insulti o addirittura, cioè mi è successo che tantissime persone a me vicine mi hanno semplicemente abbandonata perché genitori dicevano che non potevano uscire con una figlia, cioè con una ragazza che aveva fatto una cosa del genere. Sono arrivati ovviamente amici di famiglia a non parlare nemmeno più con i miei genitori quindi parlarne significava aumentare questo effetto, ok? Cosa è successo fondamentalmente? Non volendo, dato che era Facebook appunto, io comunque sono diventata conosciuta e anche a me è successo che subito mi è stato detto che l'avevo fatto appositamente per diventare famosa su Facebook. Io non vorrei mai dirvi ragazzi il male che ho provato, le sensazioni bruttissime che ho provato e mai le scambierei in cambio di follower fama, niente, cioè niente. Quello è successo, è stata semplicemente una conseguenza, sono le persone stesse che mi hanno iniziato a seguire non è che io ho chiesto a loro di farlo, capito? Cioè loro mi vengono a seguire e poi mi dicono che lo faccio per fama, allora non seguirmi semplicemente. Qui mi sono ritrovata semplicemente in un circolo in cui era completamente colpa mia che io facevo una cosa, che ne parlavo e non ne parlavo, alla fine è sempre peggio, perché è sempre peggio? Almeno nella mia situazione. Ragazzi scusatemi, volevo soltanto dire che Priscilla mi ha detto che non va la connessione e non riesce a capire cosa succede, quindi penso che appena può rientra. Ok, ok. Allora no, notavo che c'è già qualcuno in chat che ha avuto delle esperienze del genere io penso ragazzi che ammettere pubblicamente una cosa del genere sia veramente, anche per la cultura che abbiamo in Italia io ho fatto due anni e mezzo fa un'intervista con Malena dove parlavamo appunto di come il sesso in Italia sia visto ancora come un tabù e soprattutto il ruolo della donna cioè la donna non può provare gusto, lei poi ne parla Malena meglio di me di come Rocco Sifredi da parte di noi ragazzi viene quasi mitizzato mentre lei tante volte da parte delle donne, infatti avevamo chiamato Malena appunto per questo viene considerata una poco di buono, perché cerca il piacere cioè io quindi vi volevo chiedere per fare un pezzo in avanti secondo voi, al di là delle piattaforme che dopo ci andiamo dobbiamo fare uno switch mentale anche noi come società per cercare di capire cioè perché poi dopo parliamo dei coglioni delle piattaforme che però raga, cioè, prof, che lo chiedo anche a lei cioè ci masturbiamo tutti, cioè siamo tutti degli esseri umani siamo tutti qua perché abbiamo fatto sesso cioè dovremmo iniziare a vederla, non dico come fare la pipì fare sesso perché c'è anche l'amore di base però, cioè, normalizzare normalizzarlo un pochino, sennò poi si rischiano queste cose qua, no? guarda, come la vedo io, cioè, all'aprenduto anch'io mi aggiungo alla frase che esprime, diciamo così l'apprezzamento per il coraggio per esporre questo tipo di tema il revenge porno, comunque l'uso illecito delle immagini intime da parte di alcune persone in realtà non ha a che fare né col sesso né con l'amore è un esercizio di potere, detta in maniera molto brutale per questo di solito le vittime sono spesso donne detta in maniera proprio, in maniera molto schematica per quanto riguarda, dicevi tu Andrea, la questione della cultura allora, il problema con cui dobbiamo convivere è che noi siamo sempre stati abituati sia come, diciamo, sia educati che da un punto di vista culturale più ampio fondamentalmente ad una completa asimmetria fra il ruolo dell'uomo e il ruolo della donna quindi la tradizione vuole che l'uomo sia, e dico le banalità che sappiamo tutti che l'uomo sia cacciatore e che la donna sia preda questo però non è un atteggiamento di tipo, come dire, di rispetto nei confronti della persona perché poi ovviamente le donne, ormai come si diceva prima, siamo nel 2022 ci sono infiniti modi per esercitare il proprio essere donna e l'essere una donna, fatemelo dire, anche sessualmente aggressiva è all'interno del legittimo modo di esercitare la propria voglia di essere femminile quello che secondo me su cui bisognerebbe riflettere è che il fatto che molto spesso è un esercizio, la dico dura perché la penso così, di violenza cioè nel senso anche l'uso delle immagini in maniera illecita è una variante dell'esercizio di violenza in questo caso violenza, come si dice, simbolica cioè non fisica ma comunque chiamiamola psicologica, sociale, mentale, culturale nei confronti delle donne e del corpo delle donne quindi secondo me è un problema profondo di cui la questione del revenge port è veramente la punta dell'iceberg Leggevo qualche domanda in chat, non so Manu se volevi dire una cosa Sì, il punto è che se decido io in questo momento di farmi una foto nuda e postarla l'ho deciso io, però se lo fa un'altra persona perché vuole in qualche modo danneggiarmi questa è veramente una forma, cioè è proprio violenza è violenza psicologica per poi tutte le ripercussioni che ci sono dopo se ci sono questo tipo di ripercussioni secondo me anche perché la società in cui viviamo le rende tali perché se fosse una cosa normalizzata uno direbbe vabbè, ok, mentre invece stare là a guardare, cercare diventa un loop per cui poi la persona che subisce questa violenza si sente anche impotente perché dice io adesso che faccio? Mi sta piovendo tanta merda addosso e io sono completamente inerme davanti a tutto ciò Allora, c'era una domanda che vi giro su per quanto riguarda e vorrei sentire l'esperienza diretta dopo ragazzi ho letto sia per delle belle cose in chat aspettate che dopo facciamo anche qualche domanda ho letto anche del riferimento che avete fatto sia a Guepechenio che a Fishball Felicia l'avevo invitata Guarda, io ho letto una domanda molto interessante Sulla polizia postale? Sì Ah, era la stessa, ve la metto ragazzi che così però praticamente fondamentalmente chiedevano cosa ha fatto la polizia postale No, se poi ti ha detto da ora in poi ti consiglio di stare attento a questo, a quello così potrebbe... No, no, ma sentiamo come si è comportato perché quando capita un fatto del genere in Italia chiedo a Esmeralda, chiedo anche a Diana come si è comportata la polizia postale? Allora, io ti dico la polizia postale a parte che si è mossa immediatamente non ha aspettato niente mi ha chiesto immediatamente il cellulare che poi ho cambiato quindi avevo un cellulare vecchio e mi ha chiesto il cellulare mi ha dato tempo 30 secondi mi ha detto guarda, se mi dici tutte le password che hai per entrare nel iCloud un attimo giusto per rendermi conto ho detto, bene, io la password te la do lui mi ha fatto vedere come riusciva a entrare nel cloud senza la password ho detto, io la password ce l'ho ma non l'ho usata tieni, il tuo cloud è bucato sette volte mi ha detto ah, ok e quindi mi ha detto guarda, l'unico è come quando vai dal medico mi ha detto proprio questo polizetto è come quando vai dal medico che il medico dice non fumare perché ti fa male i polmoni e tu sei là con la sigaretta accesa la stessa identica cosa io ti dico proteggi la tua mail proteggi il tuo cloud con l'autenticazione a due fattori con la domanda di riserva con tutto quello che ti pare e tu non lo fai è come il medico che ti dice sì, va bene, devi dimacrire e poi non dimacrisci cioè la stessa identica cosa poi dici eh, no, mi fa male la schiena eh, non si è dimacredito eh, ovvio il peso è quello quindi loro hanno detto nel momento in cui tu fai di tutto per proteggerti ti dico che riescono comunque ad entrare poi mi ha detto io sono entrato adesso nel tuo cloud e hai l'autentificazione a due fattori mi ha detto perché l'avevo messa l'autenticazione a due fattori mentre ci sono entrato comunque quindi ti ho dimostrato l'altra parte della medaglia mi hai detto giusto ho analizzato il tuo cloud sono bucato sette volte e mi hai detto io se voglio questi dati li potevo trovare anche in un'altra parte perché vuol dire se te l'hanno già bucato te l'hanno già bucato vuol dire qualcuno ha già questi dati allora c'è questa riflessione che dopo volevo girare anche a voi ragazze prima di sentire Esmeralda però non volevo perderla che dice ragazzi non vorrei passare per quello troppo bigotto però non pensate che per prevenire questo problema la prima cosa sia semplicemente non scattare queste foto non mandarla a persone so che sembra scontato ma non molti non lo fanno io credo poi non voglio rispondere a nome vostro ma comunque è un problema che può diciamo arrivare a entrambi i sessi no? perché tutti lo facciamo specie in un momento di lockdown come quello che abbiamo passato cioè secondo me ragazzi voi non dovete pensare magari a un ragazzo cioè a parte che un errore lo possiamo fare tutti specie quando si è un po' eccitati cioè se no stiamo a raccontare di favole e poi pensate che ha dei ragazzi come sono oggi di 15 o 16 anni io ne ho 36 Davide non so quanti ne abbia ma ha la mia età ma cioè ho i 34 vabbè ora dei ragazzi molto giovani o delle ragazze molto giovani con un telefonino in mano con una cazzo di fotocamera il testosterone a 1000 cioè ma veramente pensate che sia plausibile il fatto non farlo sì probabilmente ma non è che non lo sappiano il problema e andremo a vederlo dopo insieme è perché le piattaforme permettono magari su youtube non permettono su youtube o su altre piattaforme di caricare i porno però su whatsapp o su telegram permettono di salvartelo e condividertelo e anche lì stiamo parlando di intelligenza artificiale ci sarebbe un modo probabilmente c'è anche a chi fa gioco questa cosa qua dopo le andremo a parlare non volevo lasciarle intentata questa riflessione perché secondo me è la prima cosa che dice qualsiasi persona cioè non farlo Esmeralda te invece quando ti è capitato nel 2013 che poi è andata avanti nei tribunali per un bel po' perché è stata diversa te non è stato un hacking tutt'ora ah tutt'ora sì e quindi per questo vorrei specificare che probabilmente oggi è molto più semplice quei telefoni noi parliamo quando è successo tutto ciò probabilmente era appena uscito l'iPhone 3 quindi non era proprio così semplice come è oggi entrare negli account eccetera probabilmente così è successo io mi sono accorta tutto questo da Facebook quindi non mi hanno tolto niente dal mio telefono non ho dovuto portare il mio telefono io però non potevo innanzitutto non sapevamo dell'esistenza della polizia postale perché non essendo mai successo né tanto meno pubblicamente una cosa del genere è molto difficile capire come muoversi non sapendo nemmeno in che ambito ci si trova quindi noi siamo andati semplicemente dai carabinieri del mio poete e io ho raccontato il fatto ma già in questo caso era passata una giornata cioè è successo la mattina la notte io sono andata la mattina hanno semplicemente raccolto la mia deposizione non mi hanno detto di andare alla polizia postale mi hanno detto di tornare poi il giorno dopo con tutti gli url degli account facebook che condividevano il video o i contenuti e tutti gli account che comunque mettevano like cioè potevano in qualche modo aumentare il giro cioè dovevi far tipo tale investigatore sì avevano detto esattamente così che io dovevo andare là e mettere a guardarmi tutti i profili fake io ovviamente dovevo stampare tutto mettere le url stampate non si poteva mandare niente per mail perché non lo so perché ho portato tutte le documentazioni ma il tempo che io ho fatto tutta questa cosa sai quanti profili fake nel frattempo hanno creato cioè era una corsa contro il tempo io ne stampavo uno lo chiudevano e ne dovevo stampare un altro e però lo chiudevano ancora è stato veramente molto difficile tant'è che io alla fine non è che abbia portato chissà che quantità di materiale quello che alla fine era rimasto dopo qualche giorno perché poi inizialmente non è successo solamente nulla io sono rimasta così in valida della situazione non ho smesso di usare semplicemente i social ti sei cancellata te o proprio no no allora perché non mi sono cancellata perché io allora ho pensato a una persona di 16 anni che si trova in una situazione del genere e in un giorno le arrivano 8000 richieste di amicizia per un video e ovviamente all'epoca erano ragazzi era una cosa incredibile essere famosi anche solo 10.000 follower su facebook quindi era una cosa all'epoca molto grande e non ho chiuso i social semplicemente perché chiudere i social significava per tutte le persone che appunto mi dicevano chiudi questo social ovviamente non so quante minacce di morti abbia ricevuto in una giornata comunque dentro la mia testa c'era che se io avessi chiuso i social avrei semplicemente fatto il loro gioco cioè le avrei dato proprio quello che volevano quindi diciamo che ho combattuto molto con me stessa a leggere tutti gli insulti però a continuare a tenerlo aperto e a far sì che la gente continuasse a insultarmi tant'è dopo una settimana finalmente mi hanno detto vai alla polizia postale che forse possono fare qualcosa anche lì stessa cosa vogliano tutte le urle stampate quindi sempre a fogli io penso che sono arrivata al punto di avere una minima idea di quello che devo fare dopo un mese e mezzo forse anche due non hanno fatto assolutamente niente cioè all'inizio non hanno fatto niente dicendo che era molto tardi che sarebbe stato molto difficile recuperare chi fosse stato realmente a pubblicare su facebook io ovviamente vorrei specificare che il mio video non era finito solamente su facebook ma è stato pubblicato su dei siti porno con mio nome e cognome e da lì è stato condiviso su facebook quindi non solo c'era il problema di sapere chi l'aveva condiviso su facebook ma anche chi l'ha condiviso in quei siti ancora peggio io tutt'oggi non so chi sia stato io tutt'oggi so chi io so chi ho mandato il video ovviamente e vi posso dire quando mi è dato molto fastidio la considerazione tu l'hai mandato a scopo privato a una persona basta a una persona assolutamente che all'epoca era la persona con cui mi frequentavo da mesi e quando dite meglio non farlo vi immaginate di stare con una persona da otto mesi vi fidate completamente c'è quell'ingenuità di quando sei 16 anni secondo voi io mi sarei aspettata tutto questo secondo me anche se non hai 16 anni lo fai comunque però dico ancora più ingenua perché proprio sei piccolo veramente è come se fosse il tuo primo fidanzatino mettiamola così sta di fatto che so da chi è partito il video ma non so assolutamente chi l'abbia messo online perché questo tuttora non si sa perché sono stati utilizzati molti account fake tramite il deep web quindi è una cosa veramente architettata bene perché la polizia postale avendoci messo più di un mese e mezzo a rintracciare quello che era successo non è riuscita mai a trovare il vero colpevole cioè colui che l'ha messo online ovviamente la persona che li ha divulgati lo sappiamo però quello che mi infastidisce è che dopo nove anni io non ho la più pallida idea di che abbia alimentato tutto questo nel mondo del social posso chiederti una cosa Esmeralda se ti va lo chiedo anche a Diana con Esmeralda io ci ho già parlato perché siamo amici da tempo poi se ti va perché uno diceva prima che sono arrivate le minacce di morte non so se tu puoi raccontare un attimo l'epopea che mi hai raccontato a me che hai passato perché uno pensa che uno ti manda un DM e ti dice ti manda un insulto becero del cazzo mentre in realtà te se lo vuoi raccontare tu stai dicendo a me scusa sì 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 dopo Diana se lo voleva raccontare io con te Esmeralda ci conosciamo da sei anni ho un'altra confidenza allora ti dico le minacce di morte credo che fossero state gli ultimi dei miei problemi nel senso non era tanto il DM perché qui stiamo parlando di tanti anni fa quindi non era Instagram nella maggior parte dei casi venivo inserita in gruppi Facebook quindi era una quantità di persone che commentava sotto i post minacce di morte quindi era una cosa pubblica non era il DM in privato che lo leggo solo io e posso fregarmene lì era una combutta pubblica dove tutti mi taggavano e mi commentavano sotto il post che dovevo tantissime minacce di morte insulti alla mia famiglia minacce di morte alla mia famiglia che non ho mai capito cosa centrasse in tutto ciò insulti ai miei genitori per aver cresciuto una figlia come me credo sia bruttissimo sentirselo dire e tra l'altro finisce questa cosa qua che tu sei dovuta andare via dalla tua città natale sì io mi sono andata a trasferire a Milano perché a Roma e tutti mi conoscevano persone che non sapevano nemmeno chi fossero tutti mi conoscevano tutti mi avevano visto a che età scusa per fargli avere un'idea perché poi così prendiamo un attimo cognizione di causa della situazione 16 anni stiamo dicendo 16 anni io per due anni io finché non ho fatto 18 anni ho dovuto sopportare questa situazione di andare in giro essere insultata tante volte la gente ha provato ad alzarmi le mani addosso più di una volta perché dicendo che me lo sarei meritato perché avevo fatto tutto questo per diventare famosa fortunatamente non mi hanno mai toccata quindi meno male però è capitato molte volte mi sono trovata in situazioni dove ero sola con me no 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 in centro a Roma a scuola fortunatamente no perché ho dovuto anche cambiare scuola preciso che io ho dovuto anche cambiare scuola e sono dovuta andare in una scuola con 100 persone in totale e che tutti erano a conoscenza del fatto ovviamente e ho cambiato la città sono dovuta andare a Milano ovviamente sia per una scelta di studio avrei potuto fare la stessa facoltà semplicemente a Roma però per me era troppo pesante sapere che io potevo uscire di casa scusami un secondo Matti Matti visto che sei dubbioso se vuoi ti mando subito il link adesso entra in live e fai pure le tue domande per i tuoi dubbi te lo mando subito prego eh Smeralda scusa vai sì 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 se qualcuno ha dei dubbi mi ricariamo subito giustamente quindi tu sei andata via sì sono andata via sono andata a Milano e niente ho scoperto che anche a Milano la gente mi conosceva per quello che mi era successo a Roma ovviamente oggi sembra normale ti ho mandato il link Matti Inter ti conoscono sui social quindi sembra normale un po' essere riconosciuto io ragazzi non mi sarei mai aspettata che addirittura anche a Milano la gente mi conosceva perché comunque come ho detto prima io ho deciso di non eliminarmi dai social anzi ho semplicemente deciso di affrontare la situazione non ho mai marciato su questa cosa infatti vorrei specificare che io non mai me ne sono vantata né tanto meno ci ho marciato perché io ho iniziato a parlare quest'anno dopo nove anni quindi se avessi voluto marciarci ragazzi ci avrei fatto dei cartelloni probabilmente nel senso non mi è nemmeno mai interessato come dire la gente come dice Diana tu lo racconti soltanto per per hype come hai detto tu no invece ti ho mai fatto benissimo a raccontarlo c'è bisogno che la gente lo sappia io ho fatto male a non dire niente per paura ed è stato tra l'altro io vorrei dire che ho principalmente nel più totale pallone perché ero nel pallone io quel giorno ho pubblicato il video perché mi arrivavano messaggi da ovunque chiedendomi di vendere video chiedendo di di mandare anche al loro video quindi il mio messaggio oltre a mandare la denuncia principale era per dire ragazzi non sono io che stanno lucrando sui miei video cioè voi state dando soldi a non so chi per questi video non sono io non mandare messaggi era questo principalmente quindi a quelli che dicono no perché tu hai pubblicato il video perché non ho pubblicato il video per quel motivo no no ma io capisco perché poi in un momento del genere non è che ragioni in modo lucido dici ok forse è meglio farlo o non farlo e ragazzi è impossibile cioè voi vi trovate alla mercia di tutti senza averlo deciso come fate a pensare razionalmente a quello che devi fare qual è la cosa giusta o sbagliata ci vuole poco a dire bastava fare così bene mettete nei miei panni e provo a pensare la stessa cosa allora cioè quello che mi dà molto fastidio mi dà molto fastidio ricevere commenti su come avrei potuto gestire meglio la situazione come avrei potuto gestire meglio la situazione io ragazzi volevo fare un esempio che a me mi ha toccato molto perché è successo in un periodo molto vicino al mio di Tiziana Cantone ah sì 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 perfetto è successo nel 2003 14 probabilmente credo 14 14 ragazzi la fine che ha fatto questa povera ragazza la sappiamo tutti ha anche cambiato nome quindi io mi sento di essere riuscita ad andare avanti e sentirmi dire che l'ho fatto per diventare famosa su Instagram mi fa molto arrabbiare perché io non non credo che nessuno lo potesse lo potrebbe mai fare realmente per una cosa così futile ma io la vedo quando succedono queste cose perché poi una cosa simile era successa qualche mese fa con la giornalista della tv toscana che poi che era stata accusata anche lei di usare il fatto per hype per hype la giornalista di di Empoli mi sembra Greta Greta in realtà lì Manfred siamo più sulla molestia che sul Revenge for però lì era stata fatta la stessa di cavalcare l'onda per diventare famosa lì era stata detta più o meno la stessa cosa secondo me bisogna vedere in un altro modo questo è il mio personalissimo parere una persona a cui succede una cosa bruttissima che mai vorresti succedersi a te se dopo ha una piccola ricompensa e diventa famosa sono contento per lei almeno è andata tutta una merda almeno ha avuto un piccolo dalla vita una piccola ricompensa questo secondo me dovremmo vederla così e poi che prezzo paghiamo per avere tra virgolette questa piccola ricompensa nessuno ci pensa no ma anche perché poi ragazzi penso che nel mondo di oggi c'è la fama ormai è una roba che anche come meccanismo visto che se viviamo senza soluzioni di continuità online è una roba che ciclicamente sai 5 anni fa 10 anni fa c'erano i famosi a oggi anche il pizzaiolo di fianco a casa mia lo è penso che i numeri siano una roba che ormai vada accantonata ed è passata penso sia anche un modo vecchio ma tornando un attimo al tema centrale che regala 5 buonamenti grazie volevo un attimo sentire Priscilla che Priscilla so che tu l'hai presa molto a cuore buonasera no perché tanti dicevano ma Priscilla ha subito revenge porn perché è qua lei fa il porno allora c'era per giustificare un attimo però voglio veramente siete ragazzi siete fantastiche perché avete una forza incredibile credetemi perché io sono da anni che combatto questo fenomeno con associazioni con magistrati avvocati sono andata nelle scuole nei licei appunto per spiegare questo fenomeno e per prevenire per far prevenire e poi tutto quello che succede dopo e quando quando ho saputo di Diana le ho voluto scrivere subito perché ho detto ha bisogno di un sostegno perché io non sapevo in che situazione si trovava Diana e quindi ho cercato di dare almeno un supporto che è la cosa più importante in questo momento quando succede una cosa del genere un supporto una parola di sostegno un'amica fa molto di più secondo me perché comunque succedono queste cose secondo me pancio perché non c'è proprio un'informazione e questo fenomeno è ancora così non conosciuto che sta dilagando in un modo incredibile io sono io faccio porno sono una porno star però so io quello che voglio far vedere alla gente e do il consenso a chi cioè per quello che voglio far vedere voi non avete dato nessun consenso e questa è la cosa più grave cioè non c'è il consenso e quindi è un materiale esplicitamente sessuale non si deve divulgare nel modo più assoluto cioè bisogna bisogna condannare queste persone appunto poi piano piano come dicevi tu Esmeralda negli anni che è successo a te era proprio non si conosceva non cosa fosse quindi nemmeno la polizia postale sapeva comunque esatto adesso ci sono programmatori ci sono persone che possono come trovare subito però si deve fare subito infatti quello che io dicevo a Diana Diana io sto controllando continuamente tutti i siti che io sono a conoscenza affinché appena arrivi il video lo blocco lo elimino e quindi non va divulgato in questi siti però la problematica è che ci sono adesso i gruppi Telegram che sono ancora più forti di questi siti è una cosa incredibile è quella la problematica che cancelli da una parte esce da un'altra parte è un casino allora secondo me e Telegram non si rintraccia cioè è difficilissimo da rintracciare perciò usano anche quello strumento lì infatti io non capisco come possa essere legale una cosa del genere cioè perché permetti e dai adito lo sai che possono farlo come la droga ok cioè lo sai che se vendi la droga uno potrebbe drogarsi perché lo fai cioè perché esiste perché ancora non c'è nel 2022 un metodo per risalire a chi cavolo è che fa queste robe cioè non lo so sembra di parlare come se fossimo nel 1922 piuttosto che nel 2000 sui siti ad esempio parlo proprio Pornhub tutti questi siti qui hanno bisogno comunque di certificazione per pubblicare un video perché altrimenti vanno nei guai se non hanno questa certificazione non possono pubblicarlo quindi loro si sono adeguati appena c'è comunque una richiesta di togliere no però scusami scusami Priscilla perché qua andiamo sul tema cardine Pornhub diciamolo come YouPorn si è adattato perché perché le grandi banche a un certo punto se non mi sbaglio è stato il 2018 hanno detto o tirate via e stiamo parlando di 4 milioni di video adesso non vorrei dire una cazzata se la chat mi puoi dare una mano 4 milioni di video che sono Revenge Pornhub cioè su Pornhub YouPornhub c'erano 4 milioni di video o noi tiriamo via le transizioni la possibilità di pagare sui vostri siti perché ed è secondo me lo dico a voi ragazzi lo dico anche a Davide ma in generale come programma adesso abbiamo secondo me due strade una volta che abbiamo diciamo ascoltato le vostre esperienze una è di capire cioè che ruolo hanno le piattaforme nella nostra società ma dobbiamo deciderlo noi come società poi chiaramente noi oggi ragazzi mettiamo un mattoncino però è sempre un mattoncino in più e due secondo me anche come bisogna reagire al finché queste diciamo vogliamo scendere a compromessi con queste piattaforme in caso di un problema e l'ultima secondo me è parlare un attimino del cioè di come viviamo il sesso in Italia perché secondo me quello è probabilmente la parte centrale che magari in tanti altri stati non è così adesso Priscilla ha viaggiato un po' più di me Davide non lo so io ho tante amicizie io posso dirti soltanto che loro si sono adeguati non solo per le banche ma anche per le denunce che hanno avuto in tutto il mondo ci sono comunque ancora categorie su siti non conosciuti come Xvideo Pornhub e quant'altro che hanno proprio le categorie revenge porn violenza ma io ho combattuto anche contro questi colossi del porno mettendomeli contro ok perché io combatto contro la violenza in assoluto per me il porno non è violenza è un'altra cosa la violenza nel genere proprio non deve esserci su internet però purtroppo quando metti un video Pancia sai qual è il problema quando metti un video qualcuno mette un video ok l'ho registrato Pornhub te lo toglie il video registrato andrà su un'altra piattaforma e non lo togli più e questa è la problematica sotto altre forme esce quel video quindi magari loro non lo fanno più vedere ma c'è il dark web che tu non hai idea di quello che c'è di dentro non avete idea e questa è la problematica il sesso in Italia il sesso in Italia penso che si viva come in tutti gli altri stati anzi l'Italia è uno dei paesi dove ci sono più visualizzazioni nel mondo no no io dicevo il sesso no lui diceva un'altra cosa proprio che magari da noi lo vediamo un po' più come tabù mentre all'estero è leggermente più una cosa normale però magari a te è strana sta domanda però prima di fare facciamo un passo indietro Priscila per non mettere chiudiamo parliamo un attimo delle piattaforme tu hai detto giustamente Telegram è probabilmente la più giungla adesso è quella più incontrollabile adesso è quella pericolosa beh ti faccio un esempio c'è Reddit anche che è molto incontrollabile non so se lo conoscete ma Reddit è una sorta di forum che in realtà è molto incontrollabile grazie Tony tricarico per i 5 abbonamenti consente veramente di ci sono proprio dei topic sugli OnlyFans dove vengono riapploodati io lo dico non perché tanto chi si va a utilizzare questo forum qua lo sa già non lo dico per farlo sapere ma perché cazzo qualcuno deve intervenire secondo me è inutile tacere far finta che sta roba non esista è quasi un atteggiamento omertoso Davide ma secondo te c'è cosa so che è una domanda tu macce però sei l'unico laureato credo quali meno forse Emanuelina anche laureata non so tra me e Manfredi volevo dire aiutaci un attimo cosa possiamo fare noi come società nei confronti di queste piattaforme qua io e te siamo andati alla camera del lavoro tra l'altro meno di un anno fa che abbiamo provato a creare insieme una sorta di sindacato dei creatori di contenuti perché in maniera è un problema minore ma già oggi tutti quelli che lavorano nel mondo di internet stanno affidando la propria fama a queste piattaforme che sia per quanto riguarda il revenge porn che è un fatto gravissimo ma anche per il fatto di fare impresa non ti danno alcun tipo di garanzie Allora guarda la questione delle piattaforme è veramente la domanda da un milione di dollari perché è il tema allora il problema delle piattaforme è che nascono come prodotti commerciali ma poi si innestano profondamente nello spazio civico e quindi dove arriva il confine del prodotto commerciale dove inizia invece lo spazio civile è veramente un casino da gestire no la cosa che l'unica vera cosa che si può fare è cercare allora non si può risolvere questo problema solo dal punto di vista tecnologico cioè pensare che l'intelligenza artificiale di turno riesca a fare secondo me non è la strada la strada la strada migliore l'unico modo che si può fare nell'intervenire dal punto di vista soprattutto per impedire che circolino i contenuti di tipo revenge porn e sono devo dire la verità sono contento che sia stata la pornostale a fare capire che il fatto che ci sia un atto sessuale in un video di revenge porno non vuol dire che sia porno è un atto di violenza perché il porno è un genere cinematografico le riprese video non autorizzare sono condivise senza l'autorizzazione sono dei gesti è un reato è un reato e va condannato appunto nel 2019 per fortuna hanno fatto una legge su questo abbiamo avuto la prima condanna con la maestra di Brescia non so se vi ricordate vittima anche lei è qualcosa che mi ricordo posso fare un appunto su questa questione quando è successo il fatto proprio per questo motivo la legge è stata approvata ma prova a cercarlo un attimo per favore se puoi l'articolo sì 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 no no vai Esmeralda tanto è un po' lentino io ovviamente mi sono sentita molto contenta perché dopo sei anni finalmente qualcuno ha deciso di tutelare le persone che ovviamente fanno incontro a questa situazione ho condiviso il post su Facebook perché io Facebook lo uso esclusivamente per queste cose e la gente la stessa persone che nel post condiviso dicevano ah finalmente mi dispiace per lei e via dicendo perché aveva perso il lavoro e aveva 30 non so quanti anni avesse le stesse persone mi sono venuta a commentare sotto il mio post che io però non avevo il diritto di parola perché io non ero nella stessa situazione perché io ero molto più piccola quindi io non avevo niente da perdere non avevo un lavoro da perdere per loro mi hanno proprio detto una cosa Esmeralda sai qual è il problema di questa gente che non sanno nemmeno di che cosa parlano capisci cioè non devono colpirvi queste cose e vi devono scivolare come l'acqua perché non hanno idea di quello che si passa di quello che si sente non hanno idea sono persone che si sentono in diritto di commentare inutilmente la cosa che mi faceva raviare era proprio l'incoerenza nell'avere scritto due minuti prima ah mi dispiace meno male che è successo questo lui si merita le conseguenze quindi due minuti prima hai scritto una cosa del genere come ti viene in mente di venire a scrivere che invece me lo sono meritato secondo me te lo dico è proprio l'incoerenza non c'è proprio coerenza sì non c'è proprio coerenza io penso che il problema ragazze sia io ve lo dico a oggi che ho una figlia che ha sette anni il problema è che noi siamo una cultura totalmente maschilista e che ci piace o non ci piace ed è giusto che noi uomini lo diciamo mi dispiace essere io a dirlo che sembra che voglio leccare il culo a voi ma in realtà non è così ma voglio fare gli interessi di mia figlia grazie Claudio Canyon lo dico anche penso anche Davide è come se in realtà lo diventi anche tu e non riusciamo proprio cioè essendo nati in una cultura veramente maschilista cioè io mi ricordo mio nonno che è quello che faceva il video con me che a mia nonna gli diceva lui cosa doveva votare cioè che cosa doveva votare ma era la normalità non è niente di trascendentale la normalità no no è proprio vero e quindi e poi c'era il diritto d'onore cioè se tua moglie ti tradiva avevi il diritto di ucciderla cioè raga ma questo penso quando è che è scaduto Davide il diritto d'onore cioè che l'han tolto come il matrimonio riparatore negli anni 60 negli anni 60 cioè quindi quando mio nonno quando è arrivato il divorzio quando sono arrivate tutte le grandi riforme civili del 68 e noi quindi il matrimonio quello riparatore è la stessa ed antica cosa è stato abolito nel 68 se non sbaglio ma così come anche tutto il mondo del porno se voi ci pensate è fatto da uomini cioè la regia le sceneggiature io ne parlavo con Malena vedo Priscilla che annuisce perché cioè chi è addetto ai lavori lo sa cioè non è pensato dal punto di vista femminile così come il modo diciamo metà e metà 1973 grazie chat comunque è vero perché adesso da un po' di anni che sono anche produttrice e quindi sono don donna produttrice che produce che produce pellicola no ok quindi vado in produzione e gli uomini che collaborano con me vedo che comunque hanno quell'astio contro la donna e questa è una cosa gravissima perché parità parità ma non c'è non c'è in Italia purtroppo non c'è e possiamo dire fare quello che vogliamo ma è molto bigotto e c'è proprio borderline è tutto borderline posso chiederti una cosa Priscilla vi faccio questa domanda e so che sto pattinando sulla merda a farvela ok ma vado pattinando sulla merda secondo voi chiaramente l'uomo ha le sue colpe ma vi chiedo secondo voi voi donne avete delle colpe lo chiedo soprattutto a Diana e a Smeralda soprattutto se hanno ricevuto delle offese anche da delle ragazze o se tu Priscilla per il tuo lavoro le ricevi anche da delle ragazze perché noi Rocco Siffredi come diceva Malena nell'intervista ma non c'è bisogno che lo dica Malena lo creiamo lo veneriamo quasi anche in maniera gogliardica perché penso che nessuno veda Rocco Siffredi come Dio ma in maniera gogliardica lo veneriamo io non so quante donne vedono Priscilla Salerno nello stesso modo e non so due categorie io dico sempre che il male peggiore e sono le donne che odiano le donne perché tra di noi non c'è non c'è unione non c'è non invece tra voi uomini è diverso e una donna è sempre non lo so perché ma anche nel nostro settore tutte amiche ma tutte nemiche io non capisco questa cosa non la capisco ancora perché io adoro le donne io se vedo una donna più bella di me o più belle per me le donne sono tutte belle sono tutte delle principesse cioè io ho un amore per la donna perché comunque è comunque ancora il sesso debole è comunque è sempre lei che va sotto le cose cioè io non riesco ancora a capirla questa cosa faccio veramente sono d'accordo con Ale che servono delle generazioni però secondo me il fatto di parlarne ragazzi anche dicendo io stasera mi sono messo addosso io diciamo le provocazioni a cazzate perché secondo me il fatto di dire anche delle cazzate ma il fatto di parlarne di processarle ci arricchisce come società il problema è se non ne parliamo mai che si ha sempre la paura di dire è dagli errori che si cresce raga io avevo fatto questa cosa qua con Malena per alleggerirla poi scusate se porto lei come esempio ma perché avevo fatto un'intervista avevo lavorato tanto quello è il risultato che tra l'altro Pornhub l'ha tolto avevo fatto un porno con lei e Marla il conduttore del Cerbero Podcast dove dicevamo che il primo atto di femminismo chiaramente era un'iperbole comica era quello di dare un nome al connilingus perché è anormale che il piacere femminile che per noi uomini è fammi una pompa non avesse un nome perché secondo me era una da una parte così diciamo sdoganavamo il sesso e dall'altra secondo me è anche davamo valore a una sorta di poesia al fatto che la donna godeva e quindi dicevamo fammi una scarpetta poi il video ovviamente questo è stato tolto da Pornhub perché è stato percepito come revenge porn ve lo faccio vedere se te manfre ce l'hai ce l'ho ce l'ho e dopo vi volevo chiedere un parere se secondo voi bisogna andare in questo verso come società anche dal punto di vista proprio della linguistica no? cioè di cambiare determinati tipi di termini dimmi se vai 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 farò partire grazie per la bella serata grazie a te anzi scusami se non posso sdebitarmi sai ho i conquilini sopra ah ma che problema c'è questa qui fammi una bella scarpetta ma ragazze ma quante volte abbiamo dovuto fare un e tornare a casa senza ricevere nulla in cambio ma vi sembra normale? noi donne lottiamo e facciamo gruppi per parlare di temi seri ma mai che parliamo del piacere al femminile nel 2020 parliamo ancora di cunnilinus ma basta uniamoci tutti insieme diamo un nome al piacere al femminile contro il maschilismo imperante donne da oggi unitevi e diciamo tutti insieme fammi una scarpetta è il primo passo verso la libertà va beh più o meno diciamo che era appunto un'iperbole comica però ve lo volevo chiedere cioè voi che cosa ne pensate? se secondo voi c'è bisogno di sdoganare il piacere al femminile anche attraverso la linguistica quindi cambiare determinati tipi di nomi cioè chiamarlo connilingus sembra proprio tipo un'operazione ai denti non lo so vai vai chi parte? ah non lo so chiedo alle ragazze ovviamente noi sì sì chiaro ce l'abbiamo già i nostri termini ne abbiamo fin troppi cambiare i nomi si può si può cambiare nome secondo me non è un problema non è tanto un problema di nomi alla fine dei giochi capito? perché comunque l'uomo fondamentalmente a meno che non trovi la pecora bianca è un po' egoista assolutamente comunque comunque quindi devi devi combattere affinché tu possa provare piacere ai massimi livelli ad esempio io parlo per me per me il sesso è talmente importante che se non provo piacere a me non interessa proprio l'uomo che preferisco da sola non so come spiegarti il pancio è chiarissimo ecco poi io vedo una visione abbastanza ampia del sesso insomma quindi io forse non faccio testo su questo Diana te invece cosa ne pensi sulla scarpetta? io penso che ok il nome serve a normalizzare per l'amor di Dio un punto di partenza perché tanto siamo a zero non è che tutto può essere preso per buono l'idea è carina no ma non sul video in generale no nel senso in generale proprio come diciamo discussione proprio però il problema è un altro sono d'accordo con Piscilla io cioè alla fine sull'uomo che è egoista cioè lo sappiamo perlomeno io parlo per me ma non so non so per gli altri ecco esatto io parlo per me ma non so che dirvi però cioè riuscite a argomentarcelo un attimo per capire perché io sono d'accordo con voi che fondamentalmente io mi ricordo le prime idee di sesso era basta che arrivo alla fine io no no così però capiamoci capiamoci così parliamo dritti no ma io me ne sono reso conto dopo qualche anno quando me l'ha detto una ha fatto no ma anch'io dovrei ah non me l'avevano insegnato Matt Inter scusate Matt Inter ho capito che c'hai scritto in DM amico mio un secondo che stiamo facendo questa cosa dopo ti prometto che la leggo però se leggo te non riesco a sentire il ragionamento egoista è proprio quello il fatto è proprio basta che arrivo alla fine io tanto ok lei cioè da quel momento è follia chiedere qualcosa poi è quello che c'è ancora chi vede la donna c'è proprio la base esatto per soddisfare cioè la donna deve soddisfare l'uomo cioè capito questa è la base l'importante è quello poi se ci c'è altro ben venga sì 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 ma anche nella mentalità al di là del sesso ma anche delle cose magari di tutti i giorni quando io metto una foto dove magari sono in costume la gente pensa che io ho messo quella foto perché devo piacere al mio pubblico maschile non perché mi piaccio io e sono contenta di condividere quella foto no io metto quella foto perché devo soddisfare fare follower e devo avere più diciamolo anche Manu scusa se lo dico io perché un po' ti piace lo cerchi perché quella è l'idea che si fanno io vedevo sotto anche sotto quello che mi ha scritto per Diana ce lo dico perché secondo me parlarne è giusto non per offendervi ragazzi ovviamente è giusto perché uno può fare quello che vuole c'è del suo corpo sì ma poi è staccato c'è il mio corpo per le palle esatto no tu lo fai no io lo faccio perché mi sento bello è che mi piaccio cioè vado in palestra tutti i giorni mangio in un certo modo poi metto una foto col culo sodo di fuori non lo faccio perché c'era un uomo che lo guarda è una soddisfazione esatto invece concordo pienamente non è tanto per gli altri cioè vorrei specificare che non è che noi mettiamo in foto per voi a noi ci piace essere così e questo andiamo a fiare poi il fatto che voi vi sentiate di dire ah ma tu metti questo per no quella è solo nella vostra testa non nella nostra e nessuno vi addita a dover dire ah allora sono libero di insultarti no io sono libera di postare quello che voglio tu non sei libero di insultarmi perché io sono libera di esprimere me stessa tu stai soltanto insultando un'altra persona nel momento in cui tu ledi la mia libertà insultandomi tu non stai facendo una cosa giusta una critica è un conto a parer mio allora mi puoi dire questa foto non mi piace come mi piacciono le altre questa è una critica insultarmi perché io ho deciso di mettere il mio culo su Instagram perché sono liberissima di farlo non mi sembra che io vada dai non so su Instagram dai modelli oh mio Dio stai mettendo l'addominale in mostra copriti lo fai solo per farvi vedere perché il modello è figo per le donne soprattutto questo è anche un discorso per le donne perché le donne il modello è bellissimo se si mette in mutande una tipa che si mette in mutande no questo non è da prendere in considerazione domanda domanda perché ho trovato forse un caso che potrebbe essere una mosca bianca ma forse no esmeralda tu ti ricordi Dennis Dosio all'inizio il primo Dennis Dosio chiedo non so se voi lo conoscete ragazze comunque ok un bel ragazzo te prof immagino che lo conosci vabbè è un bellissimo era ironico ovviamente è un bellissimo ragazzo anche adesso però mi ricordo che i primi anni in cui lui ha usato Instagram ed è stato forse uno dei primi ragazzi giovani a diciamo mostrarsi come un bel ragazzo in realtà da parte degli uomini ha subito una shitstorm che in quel momento ma no lui per i video compreso il nostro Faina per il tipo di contenuto che faceva più per il contenuto che per le foto no ve lo chiedo ve lo chiedo lasciava il muro tipo e diceva faceva un po' ridere capito come si esatto si no però vi dico una roba Manu io mi ricordo cioè comunque stavamo parlando di un ragazzo di 17 anni che gli avevano cioè veramente bullizzato pesantemente poi ovviamente il revenge porn è un'altra cosa non voglio arrivare a quello però sto dicendo che per quello che dicevate voi prima quando una ragazza magari fa un tiktok un reels no che secondo me è sempre un po' come si dice cioè io anche gli uomini quando li vedo un pochino molto impostati io non lo farei però io che sono oggettivamente non proprio un bellissimo uomo mi fa anche comodo fare quel ragionamento qua secondo me con i capelli saresti stato bello no no però era per dire che anche qualche uomo è capitato bello mi dispiace infatti stasera che è stata organizzata abbastanza al volo non aver portato magari un ragazzo che l'ha subita come cosa vabbè ma quello l'unica cosa che può essere paragonabile è che ha avuto i maschi contro un maschio quello può essere per il contenuto non solo per il non è solo noi parliamo dell'idea di la donna mette il culo le tette perché deve piacere agli uomini se Dennis Dosio mettesse l'addominale senza contenuto nessuno penserebbe ah lo fa perché no lo fa perché si piace oppure anche se lo facesse per piacere anche se lo facesse per piacere oh guarda guarda quante ragazze che ha abbeato lui invece noi se ci sentiamo cioè a me a volte arrivano penso anche a voi sicuramente in direct cose se dico ragazzi non me li mandate che non li voglio mi dicono ma tu metti quelle foto come faccio a non mandarti questa è la mia reazione questa è la mia reazione alla tua foto perché chi te l'ha chiesta no beh prof posso chiederle una cosa proprio a livello tecnico forse sto facendo un po' troppo un ragionamento sofista sto per fare ovvero visto che siamo nel mondo dell'immagine no esattamente come quando io facevo il cameriere le mani il corpo lo usavo per lavorare ok l'immagine a oggi che siamo nel mondo dell'immagine avere un bel corpo è e deve essere quindi considerata una skill in più non ovviamente cioè è questo che devono capire chi manda determinati tipi di come si dice di contenuti che in realtà dall'altra parte una persona sta lavorando col proprio corpo e lo usa diciamo per dare ancora più valore al proprio lavoro o sto dicendo una cazzata no no ha senso il vero problema è che noi siamo abituati a percepire piattaforme digitali non precisamente come un lavoro ma come continuità con la nostra vita quotidiana quindi tu lo sai perfettamente meglio di me Andrea tu per tanto tempo per molta gente non c'era distinzione fra Andrea Panciroli e il pancio cioè per molta gente eri la stessa identica persona quando in realtà Andrea Panciroli era l'autore che stava dietro diciamo così l'attore del pancio anche perché se no non sarei sposato da sette anni ma sarei singola vita direi quindi secondo me è anche una questione perché i social sono proprio delle piattaforme che sono in continuità con la nostra vita quotidiana quindi percepire che qualcuno stia lì ed esibisca la propria immagine anche per motivi professionali è molto più complesso di un attore cinematografico dove tu hai proprio la percezione che devi andare in un posto a vedere un film perché c'è quella persona che interpreta un personaggio cioè la vera fregatura dei social è che è talmente labile la distinzione fra essere una persona ed essere un personaggio ora non per fare i classici i perragnez no? è talmente flebile questa differenza per cui molte persone sono convinte che quello che stanno vedendo sui social sia la verità vera e non che ci sia una costruzione un ragionamento anche più che legittimo non sto facendo il bacchettone però ovviamente i social sono uno spazio che diciamo così imbrogliano le carte fammela dire in questo modo molto diciamo così molto triviale sì no che comunque è normale ragazzi nessuno si scaccolerebbe e tutti però facciamo una visita al naso al giorno e nelle storie Instagram penso che ognuno di noi prima di mettere una storia se la riguarda cioè io addirittura mi ascolti i miei audio quindi immaginati tu nelle storie Instagram quante volte li riguardi tutti secondo me no perché sai che stai comunque mandando un'immagine di te ed è giusto che sia tua a veicolarla io e Davide nel libro che abbiamo fatto anche insieme parliamo di salto del capretto che praticamente è questa quando un contenuto che nasce per uno scopo viene preso da una terza persona e viene portato su una piattaforma diversa che ha una nuova community e soprattutto uno scopo diverso mi spiego se Davide a Manfredi o a sua moglie a chi vuole lui manda un video privato e quel video lì Manfredi lo pubblica su Twitter cioè questo ragazzi bisogna che anche noi come società iniziamo a capire che è un cazzo di reato è sicuramente poi dipende dal tipo di contenuto ma non è lecita come cosa tu stai facendo una violazione a una persona l'altro giorno abbiamo parlato di quello che che era capitato alla Manu su Twitter che era molto meno grave Manu per fortuna di questa cosa qua che aveva preso un assistor e secondo me io gli parlavo anche con Manu e poi con Sasha privatamente secondo me il fatto di costringere una persona a passare tutta la giornata a sentirsi insultata senza che lei l'abbia scelto è sicuramente non stai facendo revenge porn però stai facendo una sorta di violenza a un'altra persona più leggera se volete però stai incidendo sulla sua vita senza che questa te l'abbia chiesto e secondo me l'errore qua però è cercare che quello che stavamo rischiando di fare la volta scorsa di vedere chi lo fa o chi non lo fa come un come la vittima e il carnefice mentre in realtà chi ci guadagna qua ragazzi sono sempre ste cazzo di piattaforme cioè noi dovremmo iniziare a smettere secondo me io Davide ti facevo questa domanda io e te ne abbiamo dibattuto spesso secondo me cioè qua o privatizziamo i social e rischiamo dalla fine che ha fatto il sito dell'Inps cioè che dopo 24 ore è in down oppure noi ci spostiamo come società dalle piattaforme che non garantiscono i diritti umani cioè perché qua ci meriveliamo della Cina ma raga ma veramente uno può fare delle robe del genere su Telegram e nessuno muove un dito la Cina non credo possa succedere mai no no sai che si dice hai toccato una questione delicata perché noi siamo fammela dire in maniera un pochettino più altisonante noi siamo stati abituati al ventesimo secolo in cui lo spazio privato era una cosa e lo spazio pubblico era un'altra ed erano rigidamente separati quindi quindi lo spazio che ne so la piazza del paese era una cosa e il supermercato e la diciamo così il locale del supermercato del centro commerciale era un altro nel ventunesimo secolo questi spazi si sono mescolati in maniera assolutamente nuova assolutamente diversa quindi non abbiamo completamente gli strumenti per capire se Facebook è uno spazio pubblico o uno spazio privato prima leggevo in chat qualcuno che faceva notare che in realtà le piattaforme sono spazi privati giusto ma nell'essere spazi privati nel momento in cui diventano in continuità con la nostra vita quotidiana hanno la caratteristica dei spazi privati ma si comportano come piazze come spazi pubblici sono spazi terzi non so come dire c'è fra lo spazio pubblico e lo spazio privato c'è uno spazio fammelo dire in questo modo strano ibrido che con cui dobbiamo cominciare a capire che non può fare il cavolo che gli pare perché incide sulla vita delle singole persone come individui e sulla società dal punto di vista politico ma questo è questo è il vero campo di battaglia del ventunesimo secolo ti dico Davide che secondo me un grosso colpo è stato dato dal presidente del consiglio quando in una pandemia totale ha dato ha veicolato la comunicazione tra stato e popolo diciamo e popolazione attraverso un'azienda privata che è facebook pur avendo i play e altri player tra i professionisti e gli analisti è stato molto criticato questo modo di utilizzare la comunicazione perché sai se facebook ci l'hai per leggere cazzate è un conto se ci parla se è il veicolo per capire se devi vivere o morire è un'altra cosa infatti noi siamo sempre lo scriviamo anche nel libro io e Davide che la politica non dovrebbe stare sui social ma non esiste però in Italia è così cioè è incredibile addirittura io facciamo l'elenco ovunque ovunque ormai internet sì sì però sai noi viviamo qua è potentissimo i social sono potentissimi fanno veramente metà della nostra vita ormai tutto sui social allora prima mi sono espresso male mi sono espresso male io quando dicevo della Cina che ho letto che qualcuno anche in chat l'ha interpretato male quando dicevo della Cina e di Telegram non dicevo che in Cina Telegram o sui social probabilmente sono anche più avanti di noi io non lo so io dico che in Cina si sentono spesso delle cose che in Cina guarda cosa capita chissà cosa fanno in Cina avanti e indietro poi noi in Italia ci abbiamo Telegram ok e gli facciamo fare il cazzo che gli pare punto in Cina probabilmente decide lo Stato sbagliando o no qua invece ha delle aziende con sede non so dove cazzo dove gli facciamo fare il cazzo che gli pare Esmeralda ti volevo chiedere una roba però perché sennò qua ci allontaniamo a parte grazie che mi avevi detto che avevi poco tempo invece tranquilla figurati grazie mille vi volevo chiedere una cosa quando prima lo facevano notare in chat che non l'ho letto per non far saltare un'ipotetica scalezza ma il consiglio che voi dareste a una persona perché è inutile che continuiamo a dire non fatevi video ormai lo sanno le persone purtroppo sono cose che capitano c'è anche dicono non tradire purtroppo ragazzi capita magari bravi voi che non lo fate posso suggerire però c'è niente di male posso suggerire una cosa ma cercare di non forse sto dicendo una cosa lupino io ho capito lo dico ai moderatori che mi state leggendo leggi sto lupino lupino è due ore che fai sta domanda qua a diana diana nelle tue interviste hai detto che hanno chiarato il cellulare non ci sono video non sapevi che avessero ripreso come mai erano nel tuo cellulare cioè stiamo andando in un se vuoi rispondere diana così lui la smette è che stiamo andando in un modo mantiete di fare spam su robe che abbiamo parlato prima ho detto i video erano sul mio cellulare perché ne facevo un uso che erano mie cioè nel senso erano miei controllavo io il loro uso non sono stati mandati a nessuno al pubblico non interessa il motivo per cui erano sul mio cellulare per quanto riguarda il video in cui non si poteva di essere ripresa è vero cioè non era sul mio cellulare quello è quello il problema e oltre quel gruppo di video quella galleria di video che era sul mio telefono che ok è stato hackerato va bene l'hanno messo in giro quel video in particolare non era sul mio cellulare e non sapevo manco di averlo fatto e come si chiama questo ragazzo Davide ma pure se l'avesse nel suo cellulare fosse stata consapevole che cambia cioè perché questa domanda perché ti stai interrogando il fare il 2 più 2 su quello che ha detto Diana prima se avessi avuto questo video nel cellulare che cosa sarebbe cambiato che male c'è nel riprendersi nell'intimità col proprio uomo o da sole che male c'è che male c'è nel 2022 perché farsi questa domanda con tutti i temi che stiamo toccando tu stai ancora pensando a inizio live quando Diana ha raccontato la storia cioè questo è proprio il simbolo di quello di cui stiamo parlando secondo me però per alcune persone stiamo fregando fiato stiamo andando perle e porci scusami eh se mi permetto anzi grazie è un punto di vista esterno ma che senso ha riprendersi col proprio l'uomo ma scusa ma uno si ecciterà come cazzo vuole ma glielo devi dire a Luigi ma io lo so andiamo a fare i conti in tasca a quello che fate voi no ma tra l'altro sospetto che questo Luigi abbia meno di 16 anni perché tu lo capirà io penso che parliamo 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 ma il punto è sempre quello cioè fate una cosa fate una cosa questo Luigi purtroppo mandami un attimo la cronologia tipo del tuo youporn voglio andarmi a vedere che tipo di video ti vedi su youporn e io ti metto vediamo a commentare il video che ti vedi su youporn perché ti vedi questi video cioè allora facciamo un attimo no no vabbè ma io ma è piccolo crescere lo capirà no però raga cioè nel sesso veramente dovrebbe capirlo adesso proprio per questo è il problema che già dovrebbe iniziarlo a capire non tanto lo capirà non dovrebbe essere tanto lo capirà dovrebbe imparare già adesso queste cose già adesso dovrebbe imparare che queste domande sono veramente senza il minimo senso non speriamo che prima o poi impari sì sì secondo me io vi dico una roba il fatto io credo che nella maggior parte dei casi comunque determinati tipi di contenuti e determinati tipi di reati digitali sia molto più probabile che li commettano adesso non so se abbiamo una statistica da se tu mi riesci aiutare ma gli over 50 secondo me i ragazzi più giovani hanno molta più consapevolezza del ma perché sono nati a livello digitale poi è chiaro che se hai il tuo papà o tuo zio che sono i primi e invece no non è così e invece no non è così perché un uomo più grande un uomo grande non si permette perché sa a cosa potrebbe andare sa quello che potrebbe succedere un ragazzo di 16 17 18 anni non ha idea magari lo fa per divertimento per goliardia però non sa nemmeno a cosa va incontro che è un carnefic capisci quello che vuoi dirti che è un reato loro non hanno nemmeno idea perché non c'è un'informazione adesso ci stiamo parlando un po' di più io sono stata vittima di revenge porn io sono più grande di voi e tanto tempo fa dove non sapevo nemmeno che si chiamasse revenge porn ok e sono dovuta dare via dalla mia città un casino è da sempre che continua così perché perché non c'è un'informazione perché ci sono donne che sono morte ci sono donne che non stanno qui con noi a parlare sono morte per questo perché non hanno avuto nessuno vicino a loro perché hanno avuto sempre qualcuno che dicesse è colpa tua porca puttana non è colpa mia non è colpa mia se metto la minigonna io ti dicevo così perché voglio essere bella capito no io ti dicevo così perché a me tutte le volte che esce un revenge porn io ho dei contatti anche amici ma io mi vergogno quasi anche tante volte a spiegargli e gli dico ma non mandarle queste cose qua e hanno tutti sopra i 50 anni sempre se vuoi ti faccio una statistica dei miei idm nell'ultimo periodo no no priscilla no io te lo dicevo i deficienti che ancora capiscono perché ci sono quelli che sono subitali e li apprezzo tantissimo chi mi critica chi mi insulta vabbè cavoli vari e poi c'è chi mi scrive ma dove lo posso trovare questo video dove li posso trovare questi hanno sempre più di 40 anni sempre magari hanno pure una figlia sicuramente magari ti riscrivono direttamente col profilo con la foto profilo a me guarda la stessa cosa io ho messo la copertina e la gente qualche ragazzo io tiro via la foto perché secondo me poverini non se ne rendono conto e non mi piace fare bullismo esponendoli a diciamo in pubblica piazza penso che sia un pessimo modo di usare i social ma almeno 10 ma avranno scritto link pensando di far ridere tra l'altro che io sono il primo ragazzi io amo il black humor amo Filippo Giardina che ha scritto con me Davide il libro però un conto è fare il comico e fare stand up comedian in un contesto che sei in un palco un altro conto è farlo sui social al giorno d'oggi ragazzi che sono alla piazza pubblica cioè vuol dire che sei un cretino ti stavo dicendo appunto di fishball scusate che apro il link adesso purtroppo avendo riavviato il computer non mi si è chiuso fishball freestyle cosa è successo che gli hanno creato l'account di drawbox e lei che cosa ha fatto è uscito ovviamente un merdone tu te l'hai iniziata a insultarla così va o no ragazzi ditemi un attimo in chat che non va rifresciata non va rifresciata scusate che non voglio farlo per niente che controlla anche quel telefono si si funziona funziona io la vedo Andrea io la vedo la live perfetto ok e lei che fa lei praticamente fa un freestyle dove ironizza sull'accaduto ok l'ho sentito allora grande felice peraltro il doccino perché mi sa che nel video di cui parla c'era appunto il doccino perciò lei ci ironizza anche nel video esatto però non tutti sono uguali capito non tutti siamo uguali c'è chi reagisce così ma come agli insulti c'è chi ci rimane male c'è chi invece dice ah sti cazzi carica la dose rincarica la dose giusto per per principio poi magari ha fatto il video però anche lei lì per lì sarà stata sicuramente colpita dalla cosa avrà esorcizzato forse in questo modo sì 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 ovviamente è stato il suo sfogo cioè il modo di sfogarti io devo dire io personalmente Smeralda non avrei mai fatto una cosa del genere non che sto dicendo che ha sbagliato ma perché io non l'avrei mai fatto come tu Diana hai fatto un'altra cosa ognuno di noi reagisce nel modo migliore per noi quindi non è questo il modo migliore no il modo migliore è quello che ci fa andare avanti e ci fa affrontare la situazione quindi dipende da ogni persona quello che io posso semplicemente dire è che se mai dovesse capitare una cosa del genere non bisogna nascondersi e sentirsi colpevole di quello che è successo mai perché io ho vissuto anni con la colpa ed è la tentazione più brutta del mondo quindi la cosa e io ci tengo molto a far capire alle persone che nessuno cioè la persona che in primis manda il contenuto non è colpevole perché inizia tutti cercano di farti sentire che sei tu la colpevole che è colpa tua che tu lo potevi evitare non è assolutamente così non è assolutamente così e bisogna parlarne bisogna parlarne perché più se ne parla più la gente prova a comprendere comunque si rende conto che è un problema reale che può toccare qualsiasi persona come è successo a me può succedere non so se voi avete una sorella ma se dovrebbe succedere a vostra sorella io non credo che tutte le parole che avete usato stasera alcune molto sbagliate a parer mio l'avreste dette a vostra sorella o una vostra cara amica alla mamma alla figlia domani perché non vi tocca personalmente quindi non capite però vi assicuro che se mai un giorno avreste una figlia mai mai nella vita vi augurerei che possa passare un decimo di quello che ho passato io quindi semplicemente anche prima di scrivere le cose pensateci che perché io sono qua e sono dietro uno schermo allora probabilmente pensate che me la sto pure vivendo bene però se fosse stato qualcuno a voi molto vicino io non credo che avreste avuto la stessa identica reazione tanto a dire che forse le cose ce le siamo anche inventate e le abbiamo fatto perché ci andava di diventare famose a vostra sorella avreste detto la stessa cosa che avete detto a me o a Diana io non credo proprio allora Esmeralda so che tu devi andare quindi ti saluto e ti ringrazio di essere stata io ringrazio tutti voi per questa opportunità veramente grazie bocca al lupo per tutto grazie mille è stato un piacere buona serata a tutti e buona continuazione grazie mille grazie a te ciao Esmeralda ci sentiamo poi su Whatsapp è tornato Manfred nel frattempo ciao grazie ciao 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 allora Manfred no anzi scusami Diana no Manfred bentornato io avevo delle domande per Diana un po' più calcistiche no no dopo magari ci andiamo su quella parte lì eravamo sulla parte finale che volevo chiedere a Diana se voleva mandare un messaggio perché secondo me prima parlavamo della condivisione secondo me il fatto di condividerlo cioè ogni condivisione ogni ripubblicazione di fatto è un'ulteriore violenza no e visto che come diceva Davide probabilmente non possiamo pensare che un'intelligenza artificiale possa risolvere ogni problema del nostro mondo ok che ci sia guarda sdoganiamo un attimo i social anche una persona che ce l'ha sul telefono lo fa vedere all'amico affianco a lui quindi il social non c'entra anche quello è condivisione per quanto mi riguarda anche la risata che si fanno sopra per quanto mi riguarda è condivisione quindi a parte telefonini Whatsapp Telegram vero vero cioè che tu fai vedere a un gruppo di persone il video guarda che c'ho è la stessa identica cosa cioè non è che questo vi dico va bene ok molti mi hanno scritto eh ma non sono io che li ho messi in giro benissimo ma sei te che l'hai condiviso all'amico tuo cioè vuol dire che hai fatto lo stesso gioco suo ma anche andarlo a guardare cioè io non lo guardare mai perché so che tu Diana a me non volevi farlo vedere perché me lo devo guardare se tu Diana non volevi farlo vedere a me Emanuela perché devo andare a guardarlo ma guarda io ti dico le persone che mi sono veramente più vicine sono quelle che mi hanno detto Diana io li ho ricevuti e te lo giuro su di me e su di te io non li ho aperti cioè li ho presi li ho cancellati e non li ho visti poi c'è chi mi conosce mi dice ah sì l'ho visto il video sei stupido sei stupido perché già quando ti arriva il nome e cognome sei un ritardato se fai una roba del genere ma statemi la parola perché vuol dire proprio che non capisci niente vuol dire che tu a me non ci tieni eh no ma l'ho visto per vedere che si trattava no c'è scritto tanto te l'hanno mandato con nome e cognome non diciamo le stupidaggine ragazzi leggevo da lì sì ci dissociamo dalla parola che ha detto Diana però diciamo che contestualizzate ragazzi c'è anche un po' di come si dice lo dico perché me l'hanno detto i miei moderatori giustamente Diana quella parola con la R che hai detto però è uno sfogo penso che era proprio per far capire che è una persona piccola chi fa una roba del genere ragazzi detto l'offesa è per gli altri non per sì sì in generale no no però essendo una malattia vabbè comunque non affoghiamo nella merda stai dire stai dire quello che vi volevo dire perché avevo letto prima di questa cosa qua una roba un po' più brutta però che uno diceva è un po' ipocrita il discorso di Diana cioè penso che io Lorenzo se tu vuoi entrare in che senso non ho capito a che cosa hai riferito proprio come discorso va corretto che vuol dire non ho capito proprio il senso perché non vorrei mettere in bocca Lorenzo e Lori ti mando il link perché così cerchiamo un po' se qualcuno vuole entrare al volo ormai c'erano tutti il nostro link a fare una domanda ragazzi o che magari pensa che siamo dei populisti del cazzo fra sti ragionamenti qua che Diana se l'hai meritata ho letto delle cose su Instagram non voglio additare nessuno ma se qualcuno vuole in maniera civile venire a esprimere un parere che sia diverso no siamo qua non siamo su Instagram che c'hai 15 secondi si può parlare quindi ti ho mandato il link l'ora entra pure secondo me una soluzione sarebbe poter essere quella di fare un corso nelle scuole potrebbe essere quella di fare un corso nelle scuole per spiegare certe situazioni fin dalla giovanità sono d'accordissimo beh no però questa è un'utopia scusatemi no non è vero no non è un'utopia lo faccio io perdonate cioè cosa fai perché non lo so sono anni che noi andiamo io è un'associazione contro la violenza sulle donne e magistrati e preside dei licei abbiamo iniziato qua in campagna prima del covid e appunto nei licei tipo un'educazione civica un'educazione sessuale appunto parlando del revenge porn dei rischi dei pericoli di come prevenire questo fenomeno già andiamo a scuola io vado nelle scuole io personalmente vado nelle scuole ad insegnare ai ragazzi o a far capire che scuola va superiori medie licei superiori superiori ti posso dire che qui quindi già lo facciamo capito quindi vedi che la gente non è purtroppo sa qual è il problema io sorrido per non piangere perché la gente non sa nemmeno cosa vuol dire revenge porn punto perché poi quando mi arrabbio non capisco più niente tanti ragazzi mi dicono Priscilla ma cosa vuol dire revenge porn chiaro Diana stavi dicendo dopo magari ragazzi sui rischi del cosa si rischia con il revenge porn cioè trovate tutto in rete da quando è diventato il reato purtroppo prego prego stavo dicendo stavo dicendo prima che il discorso di Priscilla si ricollega a quello tuo perché io la penso un po' come tendre che i ragazzi sono più informati rispetto a tra virgolette le vecchie generazioni perché un uomo di 40 anni non la vive con un ragazzo di 16 cioè io ho avuto entrambe le ho visto entrambe le facce e la medaglia il ragazzo di 16 anni sicuramente è più ingenuo non ci non pensa a quello che può succedere però il ragazzo di 16 anni non ci pensa manco per sbaglio a fare una roba così cioè sì e no nel senso l'uomo di 40 anni lo fa perché cioè perché gli piace mentre i ragazzi prima dice con leggerezza esatto ma prima non lo faccio poi dice guarda di questo ma non lo fa per dire guarda il video perché c'è un un po' diverso un attimo sì c'è una differenza perché i ragazzi di 16 anni dice cazzo ma che sto a fare Davide ti volevo chiedere una cosa a proposito di pene la giro anche a voi ragazze secondo voi le pene di queste adesso senza arrivare a revenge porn perché secondo me siamo veramente oltre secondo me bisognerebbe veramente andare cioè non sono mai abbastanza perché sono dei danni che sono incalcolabili perché Tiziana Cantone è stata presa in causa prima da Esmeralda cioè il suicidio è purtroppo il triste epilogo di una storia che è durata tre anni e mezzo ok dove ha dovuto cambiare casa nome capelli cioè l'abbiamo vissuto che un qualsiasi millennial purtroppo l'ha vissuta indirettamente questa storia qua ma secondo te Davide dovrebbero essere probabilmente delle pene anche si potrebbe pensare a delle pene a livello social si 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 allora se restiamo nel ragionamento del fatto che la nostra vita è al 50% diciamo ormai al 90% nei spazi social cioè il fatto di essere bannati allora guarda te la dico no perché il permaban di Twitch te lo dico è un grosso pagliativo a dei coglioncelli no no ma guarda ti dico anche un'altra cosa uno allora quando cominciarono a catturare i primi hacker negli anni nella alla fine degli anni 90 la una delle pene era quella di non fargli usare il computer per diversi anni cosa che loro vivevano in maniera praticamente pesantissima perché ovviamente se sei un hacker non puoi non utilizzare il computer per tutta la serie di motivi sto parlando degli anni 90 secondo me una cosa simile si potrebbe fare una cosa molto simile si potrebbe fare anche con con coloro i quali si rendono diciamo così responsabili di questi ripeto reati per la per la legge ma prima di essere reati sono atti di violenza ovviamente con delle reazioni appunto di vista social appunto il banner un po' come accadeva in una puntata di black mirror dove le persone non vedevano le altre completamente pixelate non potevano interagire io non l'ho finita di vedere perché a me vedere black mirror mi faceva proprio dire stiamo andando lì è inquietato è inquietato io non per niente ci ho fatto un libro eh lo so tra l'altro leggetelo ragazzi leggete cazzo davide chiedono come si chiama il libro al volo non era black mirror si chiama black mirror ok forse aspetta che lo trovo lo condivido ma se andre prima di arrivare alle pene a tutto il resto ci fosse proprio partisse da noi no mi spiego meglio adesso arriva una persona mi fa vedere il video di diana se fossi io a dire ma che cazzo fai cancella quel video piuttosto che dire oh guarda c'è diana chi è fammi andare a vedere che cazzo ho fatto uh guarda cioè perché non cambiamo non proviamo a cambiare questo tipo di mentalità e punire noi stessi eccolo qua cioè perché non facciamo passare questo come è anormale e non isoliamo quel caso lì cioè quel tipo è un cretino che si sta comportando da scemo invece che dire ah lui c'è lei c'è il video fammi andare a vedere e renderlo quasi un idolo perché ha trovato quel video cioè secondo me se noi stessi fossimo prima di tutto prima delle pene prima dell'autorità a dire guarda che stai sbagliando perché è una cosa che lei non vorrebbe diffondere che cosa fai magari partirebbe già da prima però Manu secondo me è più ma questa è una cosa nobile che tu stai dicendo ma la gente ma a me verrebbe spontanea ecco come è venuto spontanea a me di cercare subito di Anna dire tutto bene anche io l'ho scritto subito appena purtroppo mi è arrivato il video di Seri io sono rimasta così scioccante no ancora ancora ho detto però ragazzi il fatto è che non dobbiamo essere non dobbiamo sì ma al di là dell'animo nobile ragazzi dobbiamo essere secondo me non guarda cioè a parte che giustamente voi siete anche ragazzi guardare un video di una ragazza può essere io cioè dobbiamo cercare di non essere ipocriti per cari di pensare che il mondo è fatto di persone che magari hanno dei valori e degli altri che ne hanno degli altri perché sennò è giustissimo quello che tu dici Manu secondo me il codice P come stavano suggerendo in chat è una strada ma ci sono i VPN e ci sono mille modi per non rintracciare l'indirizzo secondo me è una strada non tentata e non l'ho mai sentita proposta però mi ve la propongo anzi secondo me Diana tu potresti prendere un grande spunto io potremmo aiutarti a nostro modo e spero che tu trovi anche tante persone che ti aiutano io mi ricordo che c'è stato un periodo dove c'erano almeno qua a Reggio Emilia una sorta di polizia che si chiamavano Angels non so se c'erano anche nel resto d'Italia che giravano e davano una mano e facevano tipo delle ronde diciamo che ricordavano dei tempi che non sono stati migliori in Italia secondo me però se quello schema lì noi lo applicassimo su internet dove anziché fare volontariato nella società diciamo reale ci fosse un'associazione che facesse volontariato e vigilanza nella società online è ora che inizino secondo me è proprio ora che inizi questo diciamo queste associazioni 2.0 quindi qualcosa che sia nuovo perché ragazzi bisogna arrivarci col volontariato secondo me a queste cose qua perché è inverosimile pensare che delle aziende che vendono pubblicità si mettono a fare i poliziotti cioè lo Stato italiano ha 2.200 io lo ripeto l'ho scritto nel libro 2.200 persone lavorano nella polizia postale in Italia in Italia ogni giorno vengono commessi online 40-50.000 casi di reati online dalla frode al furto di identità è inverosimile che delle persone che lavorano 6 ore al giorno possono contrastare una molla di lavoro del genere ed è inverosimile chiedere pensare che una società la Conad se non passiamo di Facebook la Conad con la sua la Coop qua c'è la Conad c'è la CoopServi che è un'azienda di sicurezza vigili sui reati perché cazzo loro devono vendere della pubblicità non è che fanno la polizia quindi secondo me dovremmo essere noi come società a diciamo iniziare a vigilare online io vi dico nel mio piccolo che uno dice Pancio potresti iniziare tu noi nel nostro piccolo io e David abbiamo investito un anno per i creatori di contenuti per portare alla Camera dei Deputati un disegno di legge che regolamenti la figura del creatore di contenuti e abbiamo una credibilità oggi abbiamo provato a portare Diana qua perché Diana magari volevamo far conoscere anche a voi perché secondo me bisogna sensibilizzare ma bisognerebbe che ci fosse qualcuna chiaramente che lo vive in prima persona che secondo me inizia a dire basta cioè ma come secondo me anche come concetto dire basta al fatto di dire lo devo accettare secondo me bisogna passare un po' al contrattacco il contrattacco è andare nei siti privati nei gruppi Telegram e farli saltare in aria cioè streamare che c'è un gruppo Telegram che si chiama adesso io che fare Venge Porn e tu lo metti online quella roba lì è andare in pubblica piazza ma anche tu piattaforma che lo permetti che permetti di pubblicare questo video ci vorrebbe una punizione pure per te no però secondo me la pena online a oggi cioè il linciaggio mediatico è la più grossa pena che possono subire queste persone qua ed è anche l'unico mondo secondo me per far capire quello che provi tu capito che l'hai subito perché paradossalmente è un po' l'altra parte della medaglia no? ma guarda io ero tentata allora quando la polizia postale il primo giorno che ho parlato con loro la polizia postale mi ha detto che in un primo momento si è trovata spiazzata ha fatto guarda vediamo cosa possiamo fare vediamo l'unica l'unica cosa sarebbe fermare le condivisioni io nel panico più totale ho postato quel video su Instagram per cercare un attimo di limitare le cose un'arma un'arma a doppio taglio continuo a ripeterlo e in un primo momento ho detto ora tutti gli screen che mi hanno mandato io li pubblico poi vediamo che succede poi sta a loro tutti i commenti schifosi che ho letto io nei gruppi e continuo a leggere tutti i commenti tipo scambio video revenge porn Diana Di Meo con altri video ragazzi io ho letto roba che un giorno mi sono vergognata mi sono vergognata scusami Diana che vi leggo volevo rispondere a Photoshop che mi dice sì però se fai linciaggio nei loro confronti vai nel torto che in parte capisco che è un'affermazione che abbia senso ma io ragazzi vi invito ad andare a vedere qualcuno prima ha scritto in chat il servizio che hanno fatto le iene che poco tempo fa non so se voi l'avete visto sono andati da uno di questi ragazzi qua che ha un gruppo privato che fa revenge porn e cazzo questo qua ci aveva la faccia di uno che stava nella ragione ragazzi cioè questi non se ne rendono conto appunto appunto non se ne rendono conto e fanno ancora di più fanno diventare vittima la carnefice e questa è la problematica Pancio che secondo me è difficile no no però però dobbiamo trovare una soluzione cioè dobbiamo dobbiamo trovare una soluzione per il momento secondo me io che bazzico sui siti su internet secondo me la cosa più giusta la cosa da fare è intanto proteggere bene il proprio telefono intanto benissimo e poi capire a chi veramente si inviano questi video e ragazzi io penso che la pubblica al tuo fidanzato l'amore è un'arma a doppio taglio però qua facciamo un'altra cosa iniziamo a parlare di un altro discorso cioè io che ci sono dentro e capisco come va l'andazzo cioè io nei miei viti privati Pancio miei non ce ne sono io non li mando non ho mai mandato cioè capisci qual è la cosa ragazzi però scusate un scopo scusami Piscina però io vi dico una roba perché io sono d'accordo che la punire in pubblica piazza possa sembrare sbagliato però voi dovete pensare una roba non voglio tornare sul libro ma perché io è il mio punto di vista sul mondo cioè noi viviamo in un momento in cui siamo alla pre-storia dei social e questi atteggiamenti qua cioè usare internet per bullizzare stuprare digitalmente una persona mettetela come cazzo volete insomma magari il termine è sbagliato chiedo scusa però cioè di questo se fare il revenge porn è un uso diciamo paleolitico di internet è l'unico modo di contrastarlo proprio per costituzione per come siamo messi messi come società oggi perché non abbiamo gli strumenti poi Davide dimmi anche te che cosa ne pensi però con queste piattaforme non ci puoi parlare la polizia non riesce a oggi a diciamo rispondere perché io vi racconto un'altra roba che io ho scritto un monologo comico nel 1998 alla polizia postale italiana gente che controllava le buste di droga che arrivavano da Amsterdam gli hanno detto raga da oggi voi prendete anche internet ed è andata così cioè gente che controllava le buste si è messa a fare internet e gli è andato internet cioè è andata così in Italia a Roma io le so perché ci ho scritto un monologo l'anno scorso erano 79 gli agenti della polizia postale cioè ditemi come fanno questi qua a contrastare tutti i reati che vengono fatti a Roma ma voi vi dico gli scam i link scam su Instagram quanti vi arrivano le truffe online i siti che fanno ma ne conosciamo io sono stato anch'io tra virgolette vittima è impossibile l'unico modo secondo me in una fase così primitiva di internet è quella diciamo di contrastarli in maniera primitiva guarda pancio se mi permetti una metafora se tu frequenti un giardino pubblico e vedi un'erbaccia non aspetti non chiami il comune per tagliarla la tiri cioè è questo cioè dobbiamo cominciare a capire che gli spazi digitali sono anche spazi nostri cioè sono spazi in cui noi viviamo che vivono le persone con cui abbiamo una relazione amicale professionale affettiva eccetera eccetera se vediamo qualcosa che non va dobbiamo essere noi i primi ad agire all'interno di questi spazi cioè dobbiamo assumerci sulle spalle la responsabilità di vivere e di fare quella che si dice un'ecologia degli spazi social cioè nel senso vivere questi spazi social e in un'ottica di non la dico con un termine di sostenibilità anche etica cioè nel senso se vedi le cose che non vanno non puoi stare zitto perché se stai zitto sei parte del problema no perché poi tra l'altro secondo me A vuol dire voler bene alla piattaforma cioè è all'internet che vogliamo un futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli vi faccio un esempio una delle prime a fare revenge porno è stata Selvaggia Lucarelli con Belè Rodriguez il famoso video del porno che mise su internet in un articolo io credo che la Lucarelli che non stimo solo per il no scherzo era una citazione a Bergomi scusate per pochi la Lucarelli da lì l'ha capita e se vedete si è mossa in tutt'altro modo perché prese un treno di merda giustamente ma io penso che cioè sia un modo di educare la community il fatto di esporli in pubblica piazza e soprattutto di prendere considerazione perché una volta che vedi che uno viene smerdato e vengono fuori i nomi dei tipi che hanno fatto il gruppo Telegram col cazzo che ci torni secondo me ci pensi due volte prima di fare una roba del genere poi è chiaro ragazzi che ci sarà sempre il coglione però secondo me il fatto di fare una vigilanza online è l'unico modo se la fai Giana noi ci si punirne uno per educarne 100 non è il massimo come concetto però si no il problema è che in questo caso punirne uno per educarne uno perché il problema è che poi alla fine è sempre una questione di cioè è una questione culturale nel senso però magari poi uno ci pensa due volte almeno due o tre volte ci pensa prima di fare poi ci pensa una volta in più si ma fai sempre dici sempre vabbè ma a me tanto però davide ti faccio un esempio ti faccio un esempio sciocco lo dico perché ha toccato un nostro amico che ha fatto un uscita triste della quale si è pentito ha chiesto scusa online sto pensando sto parlando di Damiano Alfaina che ha fatto questa roba qua che ha detto pedufischi ha preso un treno di merda io credo che oggi online prima di fare la fantastica uno ci pensa tre quattro cinque sei sette otto dieci volte quindi secondo me cioè paradossalmente quella cosa cazzata che ha detto Damiano in realtà ha fatto molto bene a internet e molto bene alla nostra società probabilmente se non ci fosse stata quella cioè poi è chiaro che ci sarà sempre quella che fa fischi cioè non penso che sia finito no Manuel il catcalling no no non è finito sai qual è il problema secondo me no però secondo me prima non lo sapevamo perché secondo me tanta gente non se ne rende neanche conto cioè quelli che il problema sì ma il problema è che noi in realtà cioè i spazi social funzionano come delle bolle cioè nel senso se tu in una bolla sei sanzionato perché fai dei commenti sessisti ti sposti in un'altra bolla in cui fai il commento sessista o la condivisione di revenge porno è assolutamente condiviso sai qual è la fregatura cioè nel senso che in questo modo cioè farlo da soli è un problema serio perché poi alla fine i meandri della rete tu la trovi uno spazio in cui tu puoi coltivare il tuo piccolo modo diciamo così violento di percepire il rapporto con gli altri questo c'è poco da fare quello che secondo me dovrebbe essere sostanziale una cosa sociale e culturale prima ancora che negli spazi digitali cioè fare sensibilizzare nelle scuole sensibilizzare il livello di opinione pubblica perché alla fine bisogna capire che questo qua è altrettanto blasfemo come la pedofilia tanto per fare un esempio di contenuti digitali che sono assolutamente problematici e controversi questa è proprio la mia opinione cioè non saprei neanche dovrebbe essere così perché al di là del social ha detto Esmeralda lei ha dovuto cambiare città perché la gente probabilmente immagino che per strada la incontrasse e le dicesse qualcosa quindi non è solo sul social dove a maggior ragione si sentono ancora di più in diritto perché tanto non ti hanno davanti sono dietro a uno schermo a volte anche in anonimo e quindi chi se ne frega però se addirittura arrivano a dirtelo in faccia quando ti incontrano per strada Esmeralda ha avuto la sensazione di disagio tanto da cambiare città questo vuol dire che va proprio oltre il social è proprio una questione di mentalità però evidentemente muoversi in questo senso potrebbe anche diciamo che è una strategia che ha bisogno di diversi passi allora io vi dico questa cosa qua il passo di sensibilizzazione il passo dell'opinione pubblica eccetera eccetera Davide dammi conferma di questa cosa ma io mi ricordo che l'avevamo letta che noi abbiamo un gruppo privato dove ci scambiamo tutte informazioni da nerd sul mondo di internet e Telegram cioè scusate la Russia con Telegram gli ha tagliato i ponti perché ha chiesto di rimuovere 4000 contenuti e gli ha detto io non ve lo faccio più usare e gli mandavano in down il sito in Italia sta roba qua perché siamo governati da una fascia da una generazione che andrebbe presa e mandata in montagna in vacanza fino a data da destinarsi non ci arriviamo a una roba del genere io e Davide quando siamo andati dalla Serracchiani a parlare del problema dei creatori di contenuti che non hanno una partita IVA perché poi era successo il caso Stepney adesso non voglio passare da un punto all'altro ma era successo questo casino per chi non lo sa praticamente di questo ragazzo qua che non è che non aveva pagato le tasse è che il suo commercialista non sapeva come cazzo inquadrarlo fiscalmente ha sbagliato il numero del codice a teco nel quale inquadrarlo siamo andati a parlarne con alla Camera del Lavoro e loro hanno paragonato i creators del web a quelli che fanno Deliveroo cioè questo è il mondo della politica alla quale noi stiamo affidando il nostro futuro io tutte le volte che vedo il Presidente del Consiglio che parla lo vorrei abbracciare e far addormentare nelle mie braccia perché così soffre di meno e perché mi rendo conto che siamo nella merda comunque ho finito io spero che ne usciremo migliori ragazzi da sta chiacchierata non so se volete dire qualcosa a voi libero la chat no no io c'ho un paio di domande per Diana veloci ma sul calcio abbiamo finito sul calcio ma vai a cagare stasera niente calcio pure io voglio sapere no no ma sono allora aspetta che saluto il professore che lo libero prof grazie mille di essere stato con noi saluto piacere buona serata buon proseguire grazie prof aspetta un attimo aspetta un attimo che l'ho condiviso ragazzi se vi siete interessati a internet comprate il libro del professore che non è venuto per fare la marchetta perché non è venuta fuori ce l'avete chiesto ma non l'avevo condiviso black mirror distopia antropologia c'è proprio una roba leggera che ti leggi mentre caghi ciao prof grazie mille io stavo per dire sto perdendo la connessione mi sento a pezzi al volo al volo al volo ti rubo speriamo di poter rispondere a queste domande vai tranquilla non ti metto in difficoltà la prima è se attualmente perché ho seguito anche oggi pomeriggio la D'Urso ma non ho capito perché nessuno te l'ha chiesto se attualmente fai ancora l'arbitro cioè tu se domenica vai ad arbitrare una partita sono fermi il mio campionato è fermo quindi aspetto che riprenda il campionato ok ok allora ti volevo chiedere la prima cosa era una valutazione tua in generale in Italia su questi primi tre o quattro non mi ricordo anni di VAR ma come fai a fare una domanda così dopo una puntata comunque io lo amo io lo amo per questo Diana perché lui aspettava per dire adesso mi sono preparato queste domande qua mi sono scritte ora glielo faccio vedere che mi sono preparato non puoi rispondere non ho chiesto nient'altro no devastante 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 ragazzi io penso di chiudere ripeto mi sento a pezzi in tutto ciò vai tranquilla Diana ci aggiorniamo su Whatsapp grazie mille grazie mille se apri l'associazione se apri l'associazione Diana noi ti daremo tutto l'apporto che possiamo darti ovviamente penso che parli anche per mano ciao Diana grazie un bacione a Diana a Diana a Diana c'è cazzo di puntata grazie mille che sei stata qui con noi secondo me è stata una bella puntata ragazzi interessante davvero mi è piaciuta molto io penso che di questi contenuti su web se ne dovrebbero portare anche di più proprio per ritornare sul discorso che dicevi prima Manu poi una domanda ma tu che cosa ne pensi del VAR negli ultimi anni questa sarà la nuova meme tu oggi hai creato il nuovo tormentone voleva stemperare un po' ma certo ma io lo conosco purtroppo però adesso la faremo a tutti gli ospiti però solo quando non c'entra tipo cioè tipo domani che c'è Bellinazzo dopo l'economia la cosa bella è che volevo chiudere con verresti lunedì a fare la puntata del VAR da noi quindi sono deluso per quello lo so lo so che sarebbe ma sicuramente viene secondo me a piacere a piacere se fa l'arbitro no ah perché è vero che gli arbitri non possono se sono se non voleva esprimersi sul VAR figurati su uno che è arbitrato però un'opinione secondo me la può dare grazie ragazzi e complimenti soprattutto alle ragazze perché noi abbiamo dato voce però insomma grazie mille va bene ragazzi che non ci piace farci i complimenti da soli che magari avremmo detto un sacco di cazzate Manu grazie mille grazie a voi ragazzi e complimenti ci sentiamo domani che c'è Bellinazzo ciao Manu grazie a tutti grazie a tutti